Oggi ho pagato l'abilitazione all'albo professionale su Pago.pia, ma soprattutto ho inoltrato le pratiche per il congedo di maternità e avviato la denuncia di nascita. La chiameremo Alice. È tutto in pochi clic e grazie a Speed. Richiedere l'identità digitale unica Speed è semplice e dal 27 al 31 maggio lo è ancora di più. Cerca gli Speedpoint, ti aiuteremo a registrarti e a scoprire tutti i servizi online già a disposizione. Partecipa alla Speed Week e inizia la tua nuova vita digitale. Grazie per la visione!